Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Gran Planet sul sintetico di Sforza Costa contro il Sanseverino 5-1 risultato finale grazie alle doppiette di Alessandro Porro e di Samuele Marini oltre alla rete di Adriano Petrini che hanno appunto messo a segno la manita contro la formazione settempedana che è andata a segno solamente con Mitillo che ha chiuso anche con l'espulsione quella di Vettorini. Vantaggio subito da parte del Gran Planet con il tiro da fuori di Alessandro Porro che mette il pallone lì dove il portiere non può arrivare 1-0 e gara subito in discesa ma non sarà facile per la formazione del Gran Planet che adesso reclama un calcio di rigore che però non viene concesso a nostro avviso giustamente da parte dell'arbitro. Poi un intervento miracoloso da parte del portiere del Sanseverino insiste il Green Planet ma risponde subito alla formazione settempedana che va a colpire il primo legno il primo di due e poi va al tiro dal centro aria con il pallone che viene scramentato alto con il portiere fuori causa. Insiste la formazione in svantaggio sull'1-0 formazione che però non riesce a contenere sempre gli attacchi del Green Planet che adesso va a difendersi e a ottenere un calcio di punizione dal limite della propria area di rigore e va poi a spazzare un pallone pericoloso vagante in aria. Calcio di punizione rispinta in doppia tempistica per il portiere del Green Planet e poi pallone calciato alto. La sfortuna assiste però per così dire la formazione del Sanseverino che va a colpire un altro palo e poi subisce la seconda rete da parte di Adriano Petrini che dunque porta il risultato sul 2-0. Insiste ancora la formazione del Sanseverino che prova ad accorciare le distanze, non ci riesce e termina dunque il primo tempo sul risultato di 2-0. Si riparti dunque dal 2-0 a favore del Green Planet, batte dalla zona del centro campo il Sanseverino che è chiamato a rimontare una gara che però non riuscirà a riaggiustare e vedrà la formazione di casa. Andrà subito a colpire un palo con un tiro da fuori di Adriano Petrini e poi il terzo gol, il 3-0 di Alessandro Polo che con un magistrale colpo di tacco mette a segno da un cross proveniente dalla destra. La formazione settempedana prova a reagire e vede sempre più svanire la possibilità di un pareggio ma in doppio tentativo mette in dura prova il portiere del Green Planet. Prima del contropiede fallito da Samuele Marini che non riesce a servire all'ultimo il proprio compagno. Lo stesso Marini non viene poi servito in maniera perfetta in aria, ci prova da fuori il Green Planet, non riesce a mettere il pallone a segno. Poi l'episodio che va a determinare ancora una volta la gara per l'espulsione di Vittorini per un fallo su Poro e il quarto gol di testa su un cross proveniente da sinistra di Samuele Marini che porta il punteggio sul 4-0 e permette alla formazione Sansevinati di riportarsi subito con la parità numerica e andare a segno con Mitillo con una bella conclusione dal limite dell'aria. 4-1 dunque ma il Green Planet reagisce immediatamente, va al tiro da fuori e respinto da parte del portiere e poi con difficoltà la difesa settempedana riesce a reagire. Fino alla quinta rete ancora di Samuele Marini ancora servito dalla sinistra, questa volta non di testa ma con il piatto destro va a mettere il pallone. Lì il portiere non può arrivare, reagisce la formazione del Sansevinati con due conclusioni che termina abbondantemente alto. Porta il pallone il Green Planet che deve solo far scorrere la lancetta dei minuti sul 5-1. Un risultato che infatti vedrà poi concludersi in questo modo prima del fischio finale l'arbitro Andrea Brasili che richiama come nostra conseduta di tutti al centro del campo saluti da parte delle due squadre.